Bisogna crederci, bisogna crederci. Io ci ho creduto, l'amministrazione regionale e soprattutto il Presidente De Luca ci credono. L'industria italiana autobus ha visto un impegno straordinario, lo devo dire, del governo e in particolare del sottosegretario della Presidenza e del Consiglio dei Vincenti, senza la quale non si sarebbe riavviato lo stabilimento. Devo dire che io fin dall'inizio, di fronte a tanti che menavano profezie negative, a tanti che si agitavano, ho detto fin dall'inizio che mi sembrava la strada giusta per l'apertura dello stabilimento, quella indicata dal governo. Noi abbiamo contribuito fortemente, abbiamo contribuito con una presenza continua, abbiamo contribuito con un'iniezione di fiducia e abbiamo contribuito con le nostre politiche generate. Soprattutto abbiamo fatto in modo che questo intervento non fosse isolato, lo abbiamo collegato all'area industriale e a un'ipotesi di sviluppo generale di quest'area. Tanto è vero che, oltre che la riapertura di industria italiana autobus, che se verranno rispettate le indicazioni emerse nell'ultima riunione a Roma, già a gennaio-febbraio dovranno riassorbire i primi 40 lavoratori e cominciare a produrre scocche. E poi entro l'estate dovranno assorbire tutti e 397 i lavoratori e produrre un'iniziativa significativa nel comparto degli autobus, della produzione degli autobus e dell'autotrasporto in generale. Già questo è un elemento positivo al quale noi abbiamo aggiunto la possibilità di un collegamento ferroviario con la stazione Irpinia dell'alta capacità che sarà possibile realizzare in contemporanea con l'apertura della stazione, rendendo immediati i collegamenti tra quest'area industriale e l'alta capacità. Assessore, un'ultima domanda sulla vertenza mondial. Lì dobbiamo metterci una pietra sopra, insomma la questione è molto delicata. Diciamo, se qualche sindacalista invece di usare parole sbagliate nei confronti dell'amministrazione si fosse impegnato di più nei confronti dell'azienda forse non staremmo in queste condizioni. In ogni caso l'amministrazione regionale ha offerto all'impresa delle possibilità. L'impresa si è mossa in modo incerto e confuso. Noi abbiamo chiesto e speriamo di ottenere rapidamente la convocazione di un tavolo al Ministero per chiedere all'azienda di ritirare la mobilità e per verificare concretamente se vi sono ancora le condizioni per salvare questo polo industriale, questa azienda. In particolare, se non erano sufficienti le misure che sono state prospettate, di qui a un mese noi avremo la definizione delle aree industriali non complesse, le aree di crisi industriale non complesse. E ho ragione di credere che con questo provvedimento e gli incentivi che sono collegati alla reindustrializzazione ci sarà subito un bando nazionale.